Se quest'anno per non pochi bimbi il carbone si chiama covid, si spera che la Befana porti anche guarigione e salute per i piccoli colpiti dalla pandemia. Nella clinica pediatrica dell'ospedale di Chieti e del professor Chiarelli si danno doni ai piccoli ricoverati e si cerca di rasserenarli in questo giorno di festa. Il professor Chiarelli fa il punto sul covid che coinvolge sempre più bambini. Professore è vero che c'è stato un aumento esponenziale soprattutto tra i bambini non vaccinati? La sua domanda, la risposta è ovvia, la risposta è sì. Il motivo qual è? Che nel momento in cui si innesca una campagna di vaccinazione è chiaro che il virus che cambia, che diventa più contagioso come stiamo vedendo la variante Omicron e che ne potrebbero essere altre di varianti contagiose colpisce i soggetti non vaccinati in generale. Tra i quali i bambini, che ovviamente non essendo vaccinati, mi riferisco soprattutto ai bambini della prima infanzia fino ai 5 anni, ma anche quelli dai 5 agli 11 perché la vaccinazione è cominciata 20 giorni fa. E quindi il virus è intelligente da certi punti di vista e quindi colpisce le persone che non sono vaccinate. Come sappiamo può colpire anche i vaccinati, ma come sappiamo bene in forma più lieve. Però c'è una notizia che mi ha anticipato prima. In primavera infatti cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che il vaccino ad mRNA e anche altri vaccini possano essere approvati prima dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, poi dalla nostra Agenzia Europea del Farmaco ad Amsterdam e poi dalla nostra AIFA qui in Italia. Il vaccino per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Questo sarà un grande passo avanti. Molte mamme si chiedono, i miei bambini sono ammalati di Covid, ci possono essere degli strascichi, cosiddetto long Covid, anche per i più piccoli? Cosa vuol dire long Covid? Che i bambini che hanno contratto ad esempio una forma delle malattie respiratorie, dell'apparato respiratorio, possono residuare, come succede anche per altri virus, quella che noi chiamiamo iperreattività bronchiale, cioè una maggiore suscettibilità ad avere asma bronchiale, ad avere reazioni di questo tipo, per esempio quando uno si ammala, oppure quando uno fa uno sforzo, oppure se entra in un ambiente umido. Quindi questo per quanto riguarda l'apparato respiratorio. Per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare, la miocardite può dare delle conseguenze, anche la cosiddetta coronarite, e poi è stato segnalato anche in varie parti d'Italia e del mondo, anche un interessamento del sistema nervoso centrale, per esempio quelli che perdono l'olfatto e il gusto, possono avere delle conseguenze sul sistema nervoso centrale che non sono trascurabili. Insomma il suo invito è quello di vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni al momento, e poi in primavera anche quelli più piccoli. Sì, decisamente, purtroppo non abbiamo altra via che quella del vaccino per mitigare l'impatto di questa pandemia. Una cosa importante che credo vada sottolineata è quella della vaccinazione in gravidanza, perché le mamme che ci ascoltano dovrebbero sapere che, le mamme che aspettano un bambino, che nel secondo e nel terzo trimestre di gravidanza, ormai è stato dimostrato ampiamente, la vaccinazione può essere fatta nella donna gravida e questa ha grande importanza nel proteggere anzitutto la donna, ma anche il feto e poi successivamente il neonato una volta che il bambino è venuto al mondo. Quindi questo è un aspetto estremamente importante, perché in questo momento, qui nel nostro ospedale, abbiamo tante donne gravide che hanno il Covid e inevitabilmente lo trasmettono al bambino. E il professor Chiarelli aggiunge poi... In questo momento noi abbiamo al pronto soccorso tanti bambini che arrivano, perché, ripeto, anche in relazione alle feste appena che oggi si concludono, purtroppo i bambini sono stati colpiti in maniera molto rilevante, un aumento veramente estremamente importante, esponenziale, direi, dei contagi nei bambini, per i motivi che abbiamo detto. Quindi sicuramente vaccinarli, sicuramente cercare di cogliere tempestivamente i sintomi dell'infezione e quindi curarli al meglio, portarli in ospedale quando i bambini manifestano dei problemi acuti.